una buona sera a tutti oggi il secondo episodio di storia di robur dopo il simone mucciarelli un altro bomber della storia bianconera lo vedete qui al mio fianco reginaldo buonasera reginaldo buonasera buonasera a tutti una serale grazie per il dito grazie a te per averlo accettato grazie anche alla tua società real casal nuovo per avermi concesso di intervistarti e partirei proprio subito però abbiamo parlato di siena ovviamente partirei proprio da qui partiremo chiedendosi qual è il tuo primo ricordo quando si parla di siena qual è la prima cosa che ti viene in mente intanto il primo ricordo è che quando sono arrivato a siena ero contentissimo che comunque siena squadra una società consolidata nel nella serie a quindi ero contentissimo però penso che il ricordo più bello sia la quando abbiamo vinto il campionato la vittoria del campionato dalla b e la a e quindi quello quello è rimasto e me lo tengo per me che comunque vincere sempre un campionato non è facile anche se eravamo delusi e poche le sanno che io quando sono arrivato siamo ritrocessi poi ho deciso io di rimanere perché volevo riportare la gioia ai tifosi della robur di provare subito di tornare a serie a e siamo riusciti quindi la vittoria più la ricordo più bello sicuramente la vittoria del campionato con tanti comunque tanti ricordi indelebili quelli legati alla maglia bianconera e ovviamente tanti immagino legati anche allo stadio franchi e non so se stai seguendo la vicenda non so se l'hai seguita il siena adesso sta giocando in un altro stadio e non sappiamo ancora quando riuscirà a tornare al franchi magari da ex calgiatore che c'è giocata hai fatto tanti gol quanto si perde cioè quanto perde la squadra non poter giocare in questo stadio ma perdi tantissimo perché comunque giocare nella loro casa giocare in casa con i nostri tifosi che ti accorgono che ti sostengono per 90 minuti cambia veramente tanto e poi con lo stadio lì piccolino laggiù così che ribomba e quindi può fare la differenza in certe categorie comunque quello stadio era bello il campo era sempre stato perfetto in condizioni quando ho giocato lì e quindi penso che stanno perdendo veramente tanto a non poter giocare nel loro stadio e magari di tifosi anche che ricordo ai meno qualche qualche aneddoto particolare no aneddoto particolare no ho i bei ricordi di quando andavamo anche fuori quelli che che potevano ci venivano a sostenere in casa era sempre bello giocare perché comunque quella gente che c'era gente veramente che ci teneva al siena e che volevo a vedere siena più in alto è possibile quindi io c'ho tanti amici sono tante persone che ci parla ancora e penso che a un edito non c'è non mi ricordo tantissimo perché comunque sono passati parecchi anni però il ricordo più ricordi sono sempre bello e tanti anni che proventi non hanno hanno un certo senti intaccato il tuo ricordo che a siena è sempre vivo e invece ora il tuo gol più bello magari anche quello più importante che che ti viene in mente adesso con la maglia al siena ovviamente a me a me è dispiaciuto tantissimo quando quando io sono andato via in giappone a giocare che avevamo vinto la partita di andata con napoli in semifinale di coppa italia che io feci gol ed è il passi real assist per rossi dopo nel secondo volta abbiamo vinto 2 a 1 mi è dispiaciuto tantissimo volevo essere con loro e ritornare a giocare adesso nello stadio che si chiama maradona e cercare di dare una mano ai miei compagni in quel periodo la per cercare di portare siena una finale di coppa italia che sarebbe stato un altro traguardo molto 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 bello no no con quello non voglio dire che se ci fosse io non perdevamo o non perdevano come hanno perso napoli però ci tenevo magari essendo uno dei più grandi che giocavano in coppa italia magari li potevo dare una mano in più però non è andata così mi dispiace è piaciuto perché sarebbe stata anche l'occasione questo accesso in finale anche di giocarsi la supercoppa certo certo anche quello contava tantissimi fatti mi è dispiaciuto tantissimo però è successo delle cose abbiamo giocato il mercoledì o la domenica era già è stato mandato in prestito al in giappone la jack united quindi erano roba societaria non potevo fare niente diciamo questo è un po un ramarico che ti porti con te sì sì perché ci tenevo così sono stato così contento quando ho vinto il campionato perché mi sentivo di di dare una gioia ai tifosi della roba e sarei stato così altrettanto contento se se riuscivamo a insieme a raggiungere il traguardo della una finale in coppa italia in quel periodo ecco sì al di là di questo comunque già una semifinale di coppa italia è stato un grandissimo traguardo ovviamente è mancato lo sappiamo la la cilicina sulla torta della proda in finale ma sia né stata forse al di là dei numeri la squadra dove ti senti di aver fatto meglio no è stata una di quelle sì sicuramente perché comunque mi sentivo proprio bene quando andavo in campo mi sentivo in dovere di dovere dare sempre qualcosina in più a quei tifosi che comunque non ci hanno mai fatto mancare niente ci hanno sostenuto sempre e quindi sì è una delle società dove mi sono anche perché ho fatto quattro anni in tutto in tutto a siena quindi so tra gli ultimi sei mesi che sono andato in giappone poi sono tornato e sono sono stato venduto dopo tre mesi in brasile quindi ho fatto praticamente tre mesi e mezzo quindi tre anni e mezzo quindi è stata una della società dove ho potuto esprimersi più a lungo dopo dopo treviso che sono arrivato giovanissimo ho fatto cinque anni a treviso eh sì anche a treviso insomma eh hai fatto il fatto molto bene e hai fatto anche la tua prima partita in serie A a treviso sì a treviso ho fatto la mia prima partita in serie C la mia prima partita in serie B e la mia prima partita in serie A a treviso è stata la squadra che mi ha lanciato e che mi ha dato la possibilità di fare la carriera che ho fatto ecco e poi dopo il Siena tra l'altro non sei più stato in in serie A però sei tornato in Italia e hai vestito tante maglie ma e come cioè come te la spieghi questa cosa di non essere più tornato in serie A una tua scelta o no? no io sono andato in Brasile a giocare al Vasco da Gama dopodiché eh avevo già un contratto prescritto di tre anni in Brasile con Vasco da Gama ma è successo un po' di casino societario la e non e non mi hanno più fatto il contratto avevamo avuto il problema col Siena la con la morte dei Paschi e tutto quanto eh a me mi è scocciato un po' io ho deciso di rimanere fermo un anno che era nata la mia figlia e dopo di che dopo un anno fermo la gente dicevano che mi ero rotto i ginocchi in Brasile perché ero per questo ero fermo invece non era vero ho deciso solo di rimanere un anno fermo per vedere crescere la mia figlia che i miei altri due figli non avevo visto crescere e lì sono uscito dal giro sono uscito dal giro gente che credeva che io mi ero fatto male ai ginocchi veramente quando non era così e allora sono ripartito dalla Paganese dopo un anno e mezzo quasi in Lega Pro e da lì poi ho fatto il giro di Lega Pro tramite tranne gli ultimi sei mesi in serie B con la Pro Vercelli quindi diciamo eh cioè sono state diffuse delle false voci sul tuo conto ma in realtà non avevi nessun tipo di infortunio ma era solo la volontà di stare io e tua famiglia io ho avuto il primo infortunio a 40 anni che è successo a dicembre della dell'anno dell'anno scorso a Picerno che mi sono una piccola polizia del miniscolo solo e basta non ho mai avuto niente di infortunio tranne i stiramentini e queste robe qua ma di operazione Sì di operazione non avevo mai avuto niente l'hanno messa questa voce qua non so chi non mi interessa perché comunque sono andato avanti dopo dopo un anno sono tornato a giocare a Pagano un anno e qualche mese e ho fatto undici gol a Pagano in sette mesi quindi da lì mi sono rilanciato e mi sono messo di nuovo incariggiato infatti dopo sono andato a Trapani e da Trapani sono andato sei mesi a Trapani e poi in serie B con la Pro Vercelli gli ultimi sei mesi Sì diciamo sì ti sei rilanciato benissimo e poi alla fine questa la tua lunga serie di squadre ti ha portato al Real Casalnuovo ecco come è nata questa cosa cioè com'è che il Reginaldo ha accettato il trasferimento al Real Casalnuovo? Com'è nata questa trattativa? Appunto l'anno scorso mi sono fatto questa pulizia del Minisco e la rigenerazione delle cartellagini che comunque avendo 4 anni e 40 anni è consumata da parecchi anni sono in Italia sono 23 anni che gioco quindi è un bel po' consumata e allora ho fatto una pulizia del Minisco e l'anno scorso nonostante sono rientrato le ultime partite del playoff l'ho fatto col Picerno parecchia società di Serie C mi dicevano che avevo problema o non so se sono stato il direttore o il dirigente del Picerno ha detto che non avevo recuperato bene ma quello non mi interessa perché comunque io sono rientrato prima del previsto per cercare di dare una mano a loro quindi se hanno fatto così sono gente che non mi interessa come si comporta mi interessa come si comporto io quindi parecchia gente non ci credeva che io potessi tornare a giocare ho avuto delle possibilità altre possibilità di Serie D però qui delle persone che mi hanno chiamato già dall'inizio e mi hanno dimostrato che anche se avevo un piccolo problema di no che cercavano di farmi riprendere di curarmi di darmi la fiducia che avevo bisogno quindi ho accettato di venire qui e direi che ti sei ripreso benissimo perché comunque stai facendo benissimo a te e sta facendo benissimo la tua squadra sì no è stata dura noi stiamo pagando perché pagavamo adesso già siamo una squadra siamo un gruppo uniti ma è un'altra realtà è la prima volta che mi approvato in Serie D e non sapevo come funzionava quindi all'inizio siamo partiti già in ritardo perché non si sapeva si chiamava Fragoleso Real Casanovo e il presidente ha fatto dei sacrifici per comprare il titolo nuovo quindi era una realtà diversa per me però ora posso dire che sono veramente contento della scelta che ho fatto io ho trovato veramente delle persone competenti e soprattutto uomini competenti perché sono veramente delle bravi persone che magari nel mondo del calcio non c'entra niente perché ho trovato ho avuto a che fare con delle persone nel mondo del calcio che veramente non si interessava di niente eh sì chiaramente ma invece l'obiettivo della squadra qual è magari anche il tuo perché quanto altro pensi di voler restare in campo di poter continuare a giocare? ma io prima di tutto visto che ho detto prima che è nata quest'anno noi siamo partiti quasi ad agosto a fare il ritiro e quindi penso che adesso dobbiamo puntare veramente a fare la salvezza e quello per me già è una cosa importante perché il primo anno di una società nel Gironi dove siamo entrato noi nel Gironi I che è veramente tosta sono delle squadre molto difficile sono delle squadre toste basta vedere la trappa nel Gironi i Seragusa a Vibonesi stanno a fare un campionato diverso a parte hanno speso dei soldi veramente in Serie D che magari squadre di Serie C non spengono per fare la squadra e quindi eh spero veramente di salvarmi il primo è possibile e perché non riuscire a fare un playoff perché comunque negli ultimi sei anni io ho vinto il campionato a Reggio e ho fatto sempre il playoff ovunque sono andato quindi e spero di riuscire a fare di fare un play di riuscire prima di tutto salvarmi e poi riuscire a fare il playoff anche con Casalnuovo e vedi un po' magari te comunque prima del Casalnuovo eri al Picerno anche lì stiamo parlando di una società piccola che però sta facendo grandissimi risultati ci vedi magari un Casalnuovo sulla falsa linea del Picerno tra qualche anno? ma eh una delle delle proposte che mi hanno fatto e una delle volontà loro è quella di fare le cose in grandi quindi l'ho accettato apposta per questo perché comunque eh le sfide vanno prese vanno prese a petto aperto come come l'ho preso io quando sono andato a Picerno che comunque avevo un altro anno di contratto a Cattanea quando sono andato a Picerno eh e sono andato comunque a Picerno perché credevano in quello che volevano fare anche lì il direttore e le persone quando mi hanno chiamato mi hanno dimostrato tantissimi interessi e i due anni che ho fatto a Picerno si è dimostrato che abbiamo fatto due anni comunque di playoff siamo usciti sempre alla prima però siamo sempre arrivati con tranquillità mostrando un bel calcio, giocando contro chiunque e mi ricordo ancora dei ricordi che Palermo è una società devastante è venuto da noi e hanno perso da noi a Siena quindi io ho vinto, ho fatto gol lì 1-0 sono dei ricordi per i tifosi che sono rimasti nella loro testa e che rimano anche nella mia e io spero di fare qualcosa di importante così anche per Real Casanovi e magari perché no se magari l'anno prossimo deciderò di giocare ancora e la società sarà più competente di quello che stanno sendo che sono adesso cercheremo di fare qualcosa di importante con magari con dei giocatori che già sono qua quest'anno e magari cercheremo di fare quello che sta facendo Picerno quest'anno di cercare proprio di Picerno secondo me può lottare fino alla fine per arrivare in Serie B noi dobbiamo cercare di lottare fino alla fine per arrivare in Serie C che sarebbe un traguardo per me importante da lì se riuscirò a fare una roba di genere posso pensare di smettere diciamo sarebbe la ciliegina sulla torta sicuramente di una grande cadiera perché comunque nel girone io hai citato te la Bibonese del Siracusa il Trapani c'è anche la nuova regina che comunque te ti hai giocato magari anche per te può essere una sfida un po' particolare quindi un girone veramente tosto sì no la regina secondo me sta pagando solo il fatto che partendo con tutto pronto per una squadra che era in Serie B trovarsi in Serie D partire dopo quasi un mese che era iniziato il campionato non è facile la regina ha fatto un mese di partita consecutivo che è stata veramente tosta può avere la rosa più lunga che vuoi ma quando fai ogni tre giorni le partite non è facile secondo me sta pagando ma nonostante ciò è sempre lì sopra e quindi secondo me solo perché è partito tardi se no era una di quelle squadre che poteva lottare tranquillamente per vincere il campionato ecco chi invece sta lottando per vincere il campionato è il Siena non so se hai seguito un po' le vicende del fallimento societario dalla Serie C la ripartenza all'eccellenza non so se ne sei al corrente sì 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 l'ho guardato l'ho visto anche perché c'erano anche dei compagni i miei là in Serie C ex compagni miei come Paloschi gente che ha giocato con me a Parma quindi li seguivo comunque è una società dove ho giocato e quindi quasi tutte le squadre quasi tutte non tutte le squadre che ci sono passate io qualcosa ci ho lasciato e loro qualcosa mi hanno lasciato quindi lo seguo qua e sto vedendo che sono contento spero veramente che possa risalire perché comunque Siena è una società che il minimo minimo ma proprio stretto la Serie B la devi fare quindi spero che possa trovare delle persone importanti che vogliono fare le cose importanti nel mondo del calcio e porti Siena dove devi starci si vede ancora un alto attaccamento alla maglia e alla città di Siena certo mi hanno dato tanto mi hanno dato tanto comunque tre anni e mezzo in una società vuol dire che uno ci tiene per rimanere perché se no io mi ricordo benissimo che quando stavo a Siena ho avuto la possibilità di andare a Torino o a Sampidora io ho detto di no sono rimasto lì quindi ci tenevo ci tenevo ci tengo e spero come ti sto dicendo spero veramente che prenda delle persone importanti che possa portare Siena dove devi stare perché comunque come società a Serie B ti ripeto è stretta ma se riescono a trovare delle persone per farli riportare in Serie B c'è tanta roba eh sì assolutamente sarebbe un grandissimo traguardo ma c'è mai stata una possibilità magari di un tuo ritorno negli anni da quando da quando sei andato via dal Siena c'è mai stata la possibilità di rivederti in bianco nero o non c'è mai stata o niente? ah non so se sono chiacchiere però quando erano in Serie C mi hanno detto che mi volevano di nuovo anche perché sarei stato eh un giocatore bandiera in Serie C no? cioè e quindi perché comunque da tre anni io sono andato in Brasile gli ultimi sei mesi ma ci avevo incontrato ancora col Siena dopo di che mi è scaduto là quindi quattro anni a Siena l'ho fatto quindi sarei stato un giocatore bandiera però non lo so io dopo ho firmato a Reggio a Reggio Calabria con la regina e fortunatamente ho vinto pure il campionato a Reggio quindi però mi sarebbe stato mi sarebbe piaciuto tornare perché comunque eh ora con la testa che ho io dalla maturità che ho acquisito con gli anni eh avrei avrei dato veramente il cuore per una per una società che mi ha dato tanto assolutamente e ma hai detto che ancora non hai deciso se se l'anno prossimo sarei di nuovo in campo e qualora non lo fossi hai già pensato a a cosa vorresti fare nella vita magari dopo il calcio non ci hai ancora pensato non ci vuoi pensare no io guarda io finché il fisico mi reggi giocherò perché comunque eh io amo stare nel campo amo vivere lo spagnatoio amo prendere in giro i miei compagni quindi finché riesco sarò 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 un giocatore ancora dopodiché vedrò parlerò con quelle persone che lavoro perché comunque mi trovo bene e nel mondo del calcio ci voglio vivere mi vedo più più come uno scout di ricerca di talenti così in giro però vorrei rimanerci però non ti vedi diciamo allenatore no no allenatore no allenatore no l'ho sempre detto che poi magari quando smetterò mi cambia mi cambia completamente tanto però per adesso la mia testa no perché non è facile fare allenatore non è facile prendere cura di 30 27 testa giocatore più lo staff più i dirigenti più la società organizzare tutto non è io mi metto nei panni degli allenatori per quello io ai miei compagni dopo da parecchi anni che lo faccio cerco sempre di passare le immagini di quello che arriva al campo e so quello che devo fare nel mio allenamento faccio le mie cose prima per farle vedere ai giovani perché comunque se un allenatore deve stare dietro anche questo è veramente tosta io non vorrei fare di nuovo questa cosa dover litigare o parlare ogni giorno con il giocatore di nuovo perché comunque entrare nella testa di più di 30 cristiani non è facile eh no decisamente no poi ecco l'hai detto te per il tuo allenatore averti nello spogliatoio è una sicuramente un punto di ripetimento importante così come lo sarai sicuramente anche per i ragazzi più giovani che penso che staranno imparando tantissimo da te magari dentro e fuori dal campo no fortunatamente fortunatamente il ministro e il direttore qui sono stati bravi hanno hanno preso dei giocatori veramente eh io sono quello più grande di 40 anni ma ci abbiamo Sosa di 38 ci abbiamo pezzi di 30 di 35 33 eh no 33 pezzi mi sembra 32 ci abbiamo Buccolo di 35 ci abbiamo Sarno di 30 di 35 sono gente che nel mondo del calcio c'è stato hanno girato parecchi spogliatori anche loro e fortunatamente mi danno una grossa mano e ci diamo una mano a Vicenzi quindi riusciamo a gestire bene lo spogliatoio e tra virgoletta eh i giovani che abbiamo sono sono veramente bravi ci ascoltano e cercano di fare quello le cose giuste sempre quindi quello vuol dire tanto assolutamente sì e allora con questo chiudiamo ti ringrazio Reginaldo di essere stato in mia compagnia grazie a voi buona serata e buona serata e ringrazio ovviamente nuovamente l'ufficio stampa della Real Casanovo per avermi concesso di intervistarti grazie a voi e fammi un saluto a tutti gli tifosi da Rocco grazie a tutti